Prima di tutto un ringraziamento a voi per essere presenti, agli organizzatori dell'ESC per avermi invitato. Cominciamo subito. Il mio talk, come vedete, si intitola Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera. Una battuta che, come sapete, è di un film di Totò di moltissimi anni fa. Allora, perché qualche volta si esagera? Perché oggi si sta esagerando col face recognition, in tanti sensi, che vedremo adesso. Allora, primo, il riconoscimento facciale è il problema peggio posto che io abbia mai visto in tutta la mia vita, non brevissima purtroppo. Allora, che cosa si pensa comunemente quando uno sente riconoscimento facciale? Pensa che qualcuno metta la sua faccia davanti a una telecamera o magari venga ripreso di nascosto con un cellulare e un qualche magia faccia uscire George Clooney, nato a Lexington, da qualche parte, insomma, nel 61, quindi tra l'altro più giovane di me. Questo qui è uno dei problemi, è quello che normalmente viene detto riconoscimento. Ok? Poi ci torniamo. Non c'è solo quello. C'è anche un altro problema, che è quello di un certo signor, tizio, che dice di essere George Clooney, che si presenta davanti a una telecamera e dice Hi, I'm George Clooney e qualcuno deve dire se è George Clooney o no, in base a qualche informazione che conosce già. Questo propriamente è verifica, quindi verifica dell'identità, il classico problema della biometria. Tu metti il dito sulle macchinette per le impronte digitali e ti dicono se tu sei veramente chi dici di essere, ma tu affermi. Nel riconoscimento tu non dici niente, tu sei uno che passa per strada e qualcuno vuole sapere chi sei. Il problema dei Google Glasses, per intenderci. Poi c'è anche il clustering. Il clustering se ne frega totalmente di chi siete. Ci sono un pacco di fotografie che contengono un sacco di facce, quindi non c'è il database, come vedete. Un sacco di facce, ma si vuole dividere le facce di George Clooney da quelle di John Travolta, da quelle di Pippo Trippo e di tutti gli altri che potrebbero essere presenti in quelle fotografie. Questa è l'operazione che viene fatta nel tagging, quindi Picasa e tante altre fotografie di Facebook sono quelle che fanno tagging, ma sostanzialmente si fidano di quel che dite voi. Se voi dite questa è la fotografia della mia zia Clotilde e in tutte queste fotografie c'è mia zia Clotilde, questo ve lo dice lui. Ma non ha fatto una verifica contro qualche database forte, tipo anagrafico, per dire questa è veramente la persona. Questo è il problema di base. Quindi, riconoscimento. Prendo una foto e voglio sapere chi è, cioè attaccare un cartellino a quella foto. Verifica, qualcuno dice di essere e io uso la sua faccia per verificare se sta dicendo la verità. E clustering, ho un pacco di fotografie e metto insieme tutte quelle che sono vagamente parenti una dell'altra. Allora, come si fa prima di tutto a fare questa operazione? C'è una catena di elaborazione praticamente standardizzata. Primo, detection. C'è una fotografia e devo scoprire dove è la faccia. Non è un problema banalissimo, ma è risolto. Questo è il problema facile. Nonostante ci sia una montagna di articoli su come si fa la detection, quasi tutti i detector, non dico solo commerciali, ma anche open source come open CV, lo fanno benissimo. Trovano la faccia. Cioè, se c'è una faccia, trovano la faccia. Dopodiché la faccia viene ritagliata all'interno della fotografia, quindi se avevate pochi pixel prima, adesso ne avete di meno. E andate avanti. Dovete fare l'encoding. L'encoding cosa vuol dire? Vuol dire che dovete attribuire alla faccia una qualche misura. Va bene? Io mi presento su una bilancia e dicono, mi metto lì e a me viene attribuito un peso, quindi una variabile. Oppure misurano peso e altezza. Peso, altezza, colore degli occhi, avanti così. Per la faccia è uguale. Io devo prendere la faccia e misurare una serie di variabili in modo tale da codificare la faccia dentro un database. Perché in un database ci stanno non tutta la fotografia intera. Perché in quel caso sarebbe una situazione di full reference. ma soltanto alcune informazioni. Quante informazioni? Il miglior programma come prestazioni oggi esistente, che è FaceNet di Google, memorizza per avere una buona prestazione 128 byte di informazione per ogni faccia. Ok? Questa è la dimensione che viene memorizzata. Se ne mettete di meno, la capacità di riconoscimento è inferiore. Se ne mettete di più, la capacità di riconoscimento non è molto superiore. Quindi 128 è, diciamo, un buon compromesso tra spazio occupato. 128 byte, non bit. È un buon compromesso tra spazio occupato e informazione, bontà del riconoscimento. Come vi ho detto, la detection è un problema, chiamiamolo, risolto. L'encoding, no. La magia è tutta lì. Una volta codificato la faccia, i problemi diventano molto minori. Perché? Io per confrontare due facce, confronti 128 byte come se fossero due vettori, quindi come se fossero due segmenti in un piano, e vedo che quello che gli va più vicino è lui. Quindi una volta fatta la codifica, il problema è, diciamo, ampiamente risolto. Però la codifica è ampiamente magia. Al momento è magia. Allora, perché è magia? Perché bisogna tenere conto di molte caratteristiche che non sono stabili. Nella biometria tradizionale, la prima cosa che si sceglie è, voglio una caratteristica che sia stabile. La cosa più stabile che conosciamo è il DNA. Il nostro genoma, per quanto ne sappiamo, è quello del concepimento e ce lo teniamo finché crepiamo. Punto. Ok? Quindi il nostro DNA sarà sempre quello per tutta la nostra vita. Stabilissimo. Ok? Le impronte digitali. Le impronte digitali sono stabili, per quel che ne sappiamo, a meno di eventi accidentali. Amputazioni, scottature, qualcuno che immerge deliberatamente il dito nell'acido e cose del genere. Ma a meno di non farle sparire, sono stabili. I trapianti di impronte digitali sono cose più da fantascienza che da realtà. Va bene? Però sono possibili, onestamente sono possibili. Le impronte dell'iride, per quel che ne sappiamo, sono stabili a partire da una certa età. Quindi l'impronte delle venuzze nell'iride è stabile a partire da una certa età. Nell'età dello sviluppo non è tanto stabile, ma diciamo dai vent'anni in poi più o meno dovrebbero essere quelle. Però non ci sono lavori che dicono siamo sicuri che è stabile. Diciamo che ci va molto vicino. La faccia? Vabbè, ognuno ha la faccia che ha, ma non è sempre quella. Quindi la faccia delle persone cambia nel tempo. Non è una caratteristica biometrica stabile. Va bene? Cambia anche pesantemente nel tempo. Per esempio, sia per normale invecchiamento, quindi per differenze di età tra le varie fotografie. Tenete presente che voi non potete fare due fotografie perfettamente isocrone. Potete farle a un nanosecondo di distanza. Ma non potete farle nello stesso momento in pose differenti. Quindi come minimo una variazione c'è. Sono d'accordo che dopo un nanosecondo non sarò invecchiato così tanto. Non è come nei film di fantascienza. Però è vero che tra le mie fotografie di quando avevo 16 anni, adesso che ne ho 56, sono un pochettino diverse. In tantinello, ma un pochettino sono diverse. Quindi la differenza influisce molto. Perché la mia identità è rimasta la stessa, più o meno. Ma la mia faccia no, a differenza del mio DNA. Poi ci sono enormi problemi di posa, se mi metto di profilo, frontale, mugshot, oppure se sono tutto nascosto perché sto facendo la grossa e non voglio farmi vedere. Tutte queste belle cosette. Queste variazioni in qualche modo le devo capire. E poi ci sono le variazioni di illuminazione. Adesso ho un'illuminazione particolare, normalmente no. Se ho un'illuminazione non condizionata, cioè non fatta apposta da qualcuno che deve far riprese, il problema dell'illuminazione potrebbe essere sensibile. E poi ci sono altri accidenti. Accidenti sono eventi puramente accidentali, come la barba, gli occhiali, sono caduto e mi sono fatto una ferita o un cerotto sulla faccia. In tutti i film di spie c'è sempre uno che si mette il cerotto per non essere riconosciuto, perché effettivamente è un problema. Se uno ha un cerotto cambia completamente i connotati. E nessuno ci fa caso del fatto di avere un cerotto, è normale, mi sono tagliato facendomi la barba. Per una donna è più difficile giustificare una cosa del genere, però vabbè, può funzionare. Allora, in altre parole, l'encoding, cioè quando io vado a prendere la faccia e la codifico nel database, non devo codificare una faccia, devo codificare tutte le sue possibili varianti, tutte dalla prima all'ultima, o perlomeno tutte quelle che hanno un qualche interesse per me. Se io voglio identificare una persona oggi, probabilmente riconoscerla nelle fotografie di quando aveva sei anni non mi interessa molto. Se voglio taggare delle fotografie, invece vorrei riconoscerla su un ampio range di età, perché probabilmente le fotografie dei suoi album risalgono un periodo antecedente al riconoscimento facciale, come lo conosciamo oggi. Quindi è un grosso problema, è un grosso problema codificare nel database una misura che sia valida in tutte queste condizioni, o perlomeno in quelle su cui abbiamo messo la crocetta, che ci interessa memorizzare. Allora, che approcci sono stati seguiti? Il primo approccio è l'approccio di Bertillon. Bertillon, se non lo sapete, è uno vissuto alla fine dell'Ottocento, che ha inventato la fotosegnalazione. La fotografia l'avevano già appena inventata, ma la gendarmeria del Belgio aveva già pensato di fare quelli che oggi si chiamano i mugshot, cioè la fotografia così e così, per fotosegnalare le persone che avevano precedenti di polizia. Bertillon inventa questo meccanismo di fotosegnalazione e inventa, in poco tempo dopo, anche un meccanismo, anche altre persone, per riconoscere persone che sono perfetti sconosciuti, per il riconoscitore, usando tratti della faccia. Per esempio, la forma dell'orecchio, la forma del mento, la distanza, tutta un'idea un po' positivista, un po' lombrosiana, per cui se io misuro le distanze fra gli occhi, le distanze tra gli occhi e il naso, la larghezza, l'ovale, una serie di parametri impressionante, calcolo rapporti, moltiplico per 3 a 14 e ottengo una serie di numeri che caratterizzano una faccia. A quel punto, se qualcuno mi fa una fotografia di uno perfetto sconosciuto e io devo andarla a cercare nel database, ricalcolo tutti quei numeri e poi vado a cercare qualcuno che gli somigli in base ai numeri che ho misurato. Questo è l'approccio classico, l'approccio che viene seguito tuttora in alcune procedure di polizia scientifica, dove vengono fatte queste misure su particolari, magari dell'orecchio, per poter poi andare nei database di fotosegnalazione a cercare queste immagini. L'estrazione di feature geometriche oggi non viene quasi più praticata, perché non riesce a catturare tutte le variazioni di età e tutte le cose che vi ho detto prima. Viene usata invece per fare misure di sentiment, cioè di emozioni. Per esempio, questa sembra un pochettino incazzata, questa qui invece è più sorridente e avanti così. Quindi capire se una persona sta manifestando visualmente delle emozioni usando questi punti. Altri due approcci che sono stati seguiti, visto che avevano già capito che questo qui per un computer non andava bene, per gli esseri umani va bene, perché riduce di molto la dimensionalità del problema. Cioè, ci sono poche cose da tenere in conto e un essere umano ce la fa, sostanzialmente. Un computer può fare molte più cose, ma così non ci riesce, non ci riesce bene. Allora hanno inventato un meccanismo, il cui algoritmo non vi descrivo, perché prima è ampiamente pubblicato, il secondo è folle dal punto di vista matematico, folle come matematica, come algoritmo, che sostanzialmente cosa fa? Prende delle facce e misura una qualche caratteristica che si pensa catturi tutte quelle informazioni che vi ho detto prima. Come fa? Beh, in effetti è più una questione empirica che una questione scientifica. Noi non sappiamo cosa ci fa riconoscere le facce esattamente, non lo sappiamo. Sappiamo che alcune cose sono più significative di altre, gli psicologi ce lo dicono, ma non è che sappiamo proprio tutto. Quindi hanno detto a un computer, senti, fai tu, io ti do un po' di fotografie, ti dico io che sono della stessa persona e tu cerca di capire come ho fatto a capire che ero della stessa persona. Questa è un pochettino l'idea di base. È un po' la stessa idea che è stata applicata in un caso molto più semplice quando è stata inventata la compressione MP3. La compressione MP3 si basa su questo fatto. Che cosa ci fa riconoscere un brano musicale come quel brano musicale senza distorsioni? Allora, io prendo, calcolo lo spettro di Fourier, comincio a buttare via pezzi finché qualcuno non mi dice no, a questo punto questa cosa fa proprio schifo, va bene? Lì mi fermo e cerco di capire che cosa ho buttato via. Scopro che non tutte le frequenze sono buone per l'orecchio umano. Scopro che la fase del segnale, delle armoniche, non è buona per l'orecchio umano che non la sente proprio. A quel punto butto via tutte quelle informazioni, comprimo le altre e ottengo un segnale che è come contenuto informativo molto inferiore a quello originale, ma come contenuto psicologico identico, perché gli esseri umani non sono sensibili a certe cose. Va bene? Qui è la stessa cosa. Evidentemente nelle facce ci sono cose a cui siamo più sensibili, altre meno sensibili. La principal component analysis cerca di capire quali sono queste cose. Come? Facendo vedere a un computer tante immagini e dicendogli sono tutte della stessa persona. Cerca di capire perché. Va bene? Hanno ricavato diversi algoritmi basati su PCA. La linear discriminant analysis è una cosa simile come concetto, diverso come algoritmo. Le hanno anche messe insieme, cioè PCA e LDA nello stesso algoritmo, e hanno ottenuto certi risultati. Ma i risultati migliori sono stati ottenuti con le reti neurali, quelle che si chiamano Deep Neural Network, quelle a più livelli. I due algoritmi che attualmente si comportano meglio sono DeepFace di Facebook e Facenet di Google. Entrambi pubblicati, in fondo alle slide ci sono i riferimenti agli articoli che li descrivono, che non vi serviranno niente, poi vi spiego perché. Però questi due algoritmi sono quelli che ottengono le migliori performance oggi possibili sul mercato. Comparabili a quelle di un essere umano che guardi delle facce di persone che non conosce. Perché gli esseri umani quando guardano le facce di persone che conoscono, riconoscono anche altre cose come l'atteggiamento, la postura, il modo di camminare, il modo di porsi, il modo di parlare e quindi tantissime altre cose che dal punto di vista del riconoscimento sono ancora più importanti della faccia. Ancora più importanti della faccia. Tanto è vero che gli imitatori, da Lighiero Noschesi in poi, in realtà fanno delle imitazioni che dal punto di vista della faccia, ma non ingannerebbero neanche un bambino, però sanno imitare postura, atteggiamento, l'atteggiamento vocale, la cadenza vocale e ci ingannano perfettamente. Perché noi ci vediamo davanti la persona, capiamo immediatamente chi è il soggetto che stanno imitando in quel momento. Ma non è dalla faccia, perché se ci pensate bene, molti addirittura non cercano neanche di camuffarsi. Noschesi ai tempi lo faceva, ma molti degli imitatori attuali non lo fanno, eppure voi capite chi è che stanno imitando. Allora, come funzionano questi algoritmi? Sostanzialmente si fanno vedere all'algoritmo tutte le facce che noi vogliamo in qualche modo identificare, quindi si prende un database di immagini, ne esistono molti database disponibili in rete di facce standard, già etichettate, quindi si sa che ci sono 40 facce di tizio, 40 facce di caio, 40 facce di sempronio, e avanti così, le si fa vedere e si dice a questi algoritmi questo è tizio, questo è sempronio, adesso ti faccio vedere tizio e sempronio e cerca di capire le differenze fra loro due. Questa è la logica dell'algoritmo. Gli faccio vedere sia le facce della stessa persona dicendogli che è la stessa persona, sia le facce di persone diverse dicendogli che sono persone diverse. Quelli di Google, FaceNet è attualmente il miglior algoritmo di riconoscimento esistente, hanno avuto quest'idea. Gli faccio vedere tre facce, due della stessa persona, una di una persona diversa, e gli dico queste due sono della stessa persona, questo è un altro. Cerca di capire perché. Questa è la sostanza. Allora, Google come vi dicevo è l'attuale vincitore, ha una capacità di riconoscimento su un database di addestramento che è l'LFV, Label Face in the Wild, che è del 99,63%. Significativamente migliore della capacità di un essere umano di riconoscere un perfetto sconosciuto, che è intorno al 95%. Ok? Sullo YouTube FaceDB, che non sono immagini ma sono filmati, si riesce a arrivare con il nostro amico al 95,12, però sui filmati gli esseri umani sono un po' più bravi perché hanno il movimento e quindi riescono anche a cogliere atteggiamenti che non si possono cogliere sulla singola immagine. Però attenzione, detta così uno dice cavolo 99,64, basta, siamo tutti etichettati. No, non è proprio così. Allora, primo, per addestrare una rete neurale di quel tipo serve un dataset immenso. Cos'è immenso per te? No, infinito è un po' troppo, dai, c'è qualcosa che ci stia in un computer. No, 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 immenso in numeri. Ne hanno usato 320 milioni di facce. Ok? Quindi avete un'opinione dell'immenso a chi ce l'ha almeno che è di un terzo di quella che è stata usata. Allora, il vantaggio è che una volta che io ho addestrato la rete, praticamente ho calcolato i parametri di quella rete, prendo i parametri e li posso dare, li posso utilizzare io, li posso vendere, li posso distribuire, perché sono un pacco di numeri. D'accordo? Sono come i fattori di compressione che usano nell'immagine di JPEG. di JPEG, io dico, questi sono i coefficienti che vanno bene, usa questi nel filtro, dopodiché tutto quello che ottieni va bene. Questi hanno addestrato una rete, poi vedremo anche i parametri, quanto ci hanno messo, e hanno addestrato questa rete al fine di ottenere i parametri a cui non riusciamo a attribuire nessun significato pratico. Pratico intendo dire, non è la distanza tra gli occhi, come era nel caso della biometria tradizionale, è un numero, è uno dei tanti numeri che vanno calcolati per poter riconoscere facce anche diverse da quelle del database di training. Perché vi ricordo che quando io sono in grado di riconoscere una faccia, calcolo 128 byte che sono la versione compressa di quella faccia. Dopodiché, se do un'altra faccia, mi calcolerà altri 128 byte che sono la firma, se volete, di quella faccia. Confrontando le firme, io non ho necessità di avere il database originale, confronto le firme e trovo facce simili semplicemente confrontandole o la similitudine di facce con un database che io ho già a disposizione. Ovviamente, l'addestramento può essere fatto a diversi livelli, quindi io posso far vedere poche facce e ottenere certi risultati o milioni di facce e ottenere risultati molto migliori. Va bene? Posso ottenere anche risultati diversi, perché se io voglio avere una rete capace di riconoscere facce della stessa persona a età diverse, l'addestro per attribuirmi un'età. Se invece voglio riconoscere tante persone in un momento particolare della loro vita, allora butto via l'informazione sull'età e l'addestro solamente per avere informazioni su quello. Purtroppo, il processo di training e la scelta stessa delle facce non è ben conosciuto. Cioè, sono state fatte delle prove ma non ci sono algoritmi pubblicati per cui se io vi dovesse dare o voi doveste scaricare dalla rete l'LFV, cioè il database di quelle facce, comunque dovete sceglierle per addestrare la rete e la sequenza con cui le presentate è anche lei rilevante, quindi dovete cominciare da quelle più diverse e andare verso quelle più simili, ma questo presuppone di sapere già che cose diverse e che cose simili per una rete neurale, quindi è un po' il gatto che si mangia la coda. È un lavoro estremamente di artigianato, non di arte. Tenete presente che FaceNet, la performance di FaceNet è stata ottenuta dopo 700 ore di training usando 300 milioni di immagini di training. Allora, fate il conto di quanto ha elaborato ogni singola immagine, cioè 700 ore diviso 300 milioni e vi renderete conto che non hanno usato un Commodore 64 sicuramente. Ok? Questa è la prima informazione che ricaviamo. Allora, delle cifre più realistiche le troviamo da un'implementazione di Open Face fatta alla Carnegie Mellon University a cui potete accedere in rete che utilizza le GPU per fare questi calcoli. Loro vi forniscono già quattro modelli pre-addestrati che sono NN4 nelle sue varie gusti che hanno queste performance. 92%, 92% e 91% e 76% di riconoscimenti il più piccolo dove questo è da intendersi come la capacità di, cioè la percentuale di veri positivi. Cioè, io do una faccia di una persona che è nel database e lui lo trova davvero. Tutti questi numeri e anche quelli di Google sono stati calcolati a una percentuale di falsi positivi dell'1 per 1000. Quindi 0,001. Quella viene tenuta fissa convenzionalmente non perché non è un numero magico i ricercatori hanno deciso che quello andava bene. Quindi con una percentuale di falsi positivi del 1 per 1000 si ottiene una percentuale di veri positivi del 92%. 92% in quel caso. Allora, fin qui tutte le cose belle. Le cose meno belle sono queste. Primo, noi non sappiamo esattamente quali sia l'accuratezza di questo, cioè quanto influisca la variazione di età sulla capacità di un sistema di riconoscere le facce. Non sappiamo come si comporta il sistema quando noi lo addestriamo con dei database veramente enormi. Quindi, attenzione, le 300 milioni di immagini non sono 300 milioni di facce, sono 300 milioni di facce di immagini in cui ogni faccia, ogni tag era rappresentato almeno 40 volte. Quindi, il numero di individui di identità è molto inferiore. Ok? Noi non sappiamo quando ci fosse per caso un database come quello che potenzialmente hanno Facebook e Google di un miliardo di individui. Non sappiamo come si comportano questi sistemi. perché ci sono persone che oggettivamente si somigliano. Ok? Allora, il rebus che anche professionalmente dovrebbe saper riconoscere le persone non è stato in grado di distinguere due delle mie figlie che si somigliano moltissimo. Ok? Avendole viste non nello stesso momento. E questo è un problema. Io avrei un problema, dico di lui, ma ancora più grande perché io ho una difficoltà genetica a riconoscere i volti delle persone. si chiama prosopagnosia, la mia è in forma molto lieve, però potrei incontrarvi per strada, lui per esempio che è stato un mio tesista volendo, e a prima vista non riconoscervi. Se mi arriva un altro input del tipo ma io sono quello che poi le cose mi si rimettono a posto. Va bene? Allora, noi non sappiamo come si comportano i computer di fronte a questo problema. Già gli esseri umani non sono tutti bravi uguali a riconoscere volti. Alcuni sono dei top performers incredibili, altri come me dei cani incredibili. Il computer non lo sappiamo perché sono bravi nei limiti di quel database di prova. Ma se io dopo 300 milioni di facce diviso 40 per il numero di pose per individuo, gli presento un miliardo di individui, quanto è bravo? Questo non lo sappiamo ancora. Soprattutto non sappiamo neanche quanto è accurato il riconoscimento se noi anziché 40 immagini dello stesso individuo ne abbiamo 4 o addirittura o addirittura una sola. Attualmente i database di fotosegnalazione contengono due immagini di una persona frontale e laterale alla vista di fianco e basta. Quindi se uno volesse prendere un database di mugshot le immagini classiche della polizia trasferirli in questo database avrebbe una immagine per individuo punto non 40 e anche se ha addestrato la rete molto bene noi non sappiamo quanto brava quanto bene si comporti la rete su quello che è lo single image problem cioè il problema di avere una sola immagine un solo campione per ogni individuo da riconoscere pensiamo che non sia eccezionale. Poi c'è il problema dei target i target sono quelli che si vogliono far fotografare che cooperano o non cooperano cioè una persona che vuole essere riconosciuto da un sistema biometrico si mette davanti al sistema e si fa vedere una persona che vuole rapinare una banca non penso che si metta davanti alla telecamera facendo ciao con la manina non coopererà dal punto di vista del riconoscimento anche ammesso che non utilizzi disguising quindi dei trucchi particolari per nascondere la propria faccia va bene? Poi non sappiamo esattamente anche se ci sono dei lavori in corso quanto l'accuratezza e la qualità dell'immagine inteso nel senso di quantità di bit per pixel influenzi la capacità di riconoscimento una cosa che possiamo dire con quasi assoluta certezza è che i sistemi CCTV di videosorveglianza nel 99,64% dei casi non servono a niente perché dal punto di vista del riconoscimento facciale non sono in grado di fornire abbastanza bit di informazione per far riconoscere un volto ok quindi qui il primo motivo per cui ho intitolato qualcuno esagera qualcuno esagera dicendo che adesso ci fotografano tutti ci riconosceranno e ci taggeranno ad avenir baffone signori miei cioè con quello che attualmente fanno i sistemi di videosorveglianza il tagging individuale ha un errore credo del 50% probabilmente non si ricava niente da queste informazioni per tante ragioni e sostanzialmente perché il bitrate è troppo basso poi perché l'inquadratura è troppo piccola il volto una volta ritagliato dall'immagine sono 7x7 pixel e uno dice vabbè no cioè 7x7 pixel sono 49 pixel più di tanto non è che posso distinguere allora quindi questo è un problema viceversa ci sono in alcuni ambienti aeroporti telecamere ad altissima risoluzione o a doppia risoluzione una volta individuato un soggetto possono zoomarlo e ottenere un'immagine del suo volto ad altissima risoluzione superiore a quella che invece è buona per il riconoscimento così come lo conosciamo però attualmente la media delle immagini CCTV ai fini del riconoscimento automatico non serve a niente ai fini del riconoscimento personale è un altro discorso perché ancora una volta se qualcuno vede passare una persona conosciuta noterà l'andatura noterà il passo noterà i vestiti noterà un sacco di cose che non sono la faccia e allora in qualche modo la riconosce quanto a fare prova legale questa cosa è un altro discorso investigativamente ha un ottimo significato ma come prova legale non penso che valga molto poi ovviamente i sistemi di riconoscimento come tutti i sistemi biometrici possono essere attaccati attaccati deliberatamente quindi finora abbiamo parlato di quelle che erano le loro caratteristiche dal punto di vista intrinseco cioè quello che loro sanno fare sia nelle condizioni in cui uno cooperi sia nelle condizioni in cui uno non cooperi ma qui siamo nel caso in cui uno sta rompendo le scatole deliberatamente è una cosa diversa quindi non è il non cooperare non cooperare vuol dire che io passo per strada per i fatti miei non faccio nulla per cooperare ma non faccio nulla per non cooperare faccio la mia vita normale negli altri casi invece qualcuno ci mette del suo ok ci mette del suo per attaccare il sistema e fargli fare cose diverse da quelle che uno intende i tre principali attacchi che possiamo immaginare sono quelli e anche qualcuno mettere in pratica sono spoofing poisoning e anti-recognition spoofing lo spoofing è il tipico attacco contro i sistemi biometrici cioè cerco di simulare l'identità di un altro il problema della biometria di tutti i sistemi biometrici è la cosiddetta liveness allora avete visto sicuramente qualche film in cui c'è l'impronta dell'iride ma qualcuno viene lì cava un occhio alla persona gliela fa vedere va bene ecco non funzionerebbe quindi non andate in giro a cavare gli occhi alla gente che fa male è brutto è un reato e comunque non funziona perché se uno quando si fa l'impronta dell'iride i pochi sistemi che fanno l'impronta dell'iride prima prendono la foto delle vostre venuze poi vi fanno una flashata degli occhi attivano la midriasi che è la restrizione della pupilla e vi rifanno la foto se la pupilla non si stringe o è una foto o è un morto quindi no dicono no quindi non va bene e ci sono anche altri test di liveness nelle impronte digitali si cerca di misurare la temperatura perché uno potrebbe metterci un calco di silicone ma in questo modo uno può scaldare il calco tenendoselo in mano no misurano anche il pH quindi la concentrazione acida della superficie della pelle che ha delle caratteristiche diverse se uso dei calchi plastici piuttosto che altro no e questo è già più difficile da ingannare perché il silicone fa cose strane se anche ci sudate su un po' sui calchi non è così facile da far passare però non tutti i sistemi funzionano in questo modo per esempio un riconoscimento di impronte digitali fatto con un'immagine non misura il pH e non misura la temperatura lo bidonate che è un piacere è chiaro lo bidonate che è un piacere un riconoscimento di iride o di faccia che non misuri qualcosa d'altro lo bidonate che è un piacere un articolo recentemente pubblicato do atto al rebus di avermelo segnalato di persone su USENIX del 2016 agosto proprio pochi giorni fa persone hanno utilizzato realtà virtuale per presentare a un sistema di riconoscimento facciale un volto realistico quindi prendere fotografie che uno pubblica su facebook ricostruire un'immagine 3D e presentarle al sistema tridimensionale uno dice perché non basta una fotografia no perché i sistemi di riconoscimento facciale biometrici quelli che vi fanno verifica dell'identità vi chiedono di spostarvi del tipo mettiti così adesso mettiti così chiudi un po' gli occhi per dire vediamo se sei vivo e se sei un oggetto tridimensionale perché una faccia non è bidimensionale se io prendo una foto e la giro ottengo un effetto diverso dal girare la faccia perché le proiezioni prospettiche sono diverse ok quindi se io ho una realtà virtuale come hanno ricostruito questi signori inganni il sistema se non ce l'ho il sistema non si fa bidonare così facilmente comunque sui sistemi biometrici io forse sbagliando sono un pochettino scettico perché si ingannano un po' troppo facilmente il poisoning è l'ultima cosa che vi dico è ancora più furba se volete ingannare uno di questi sistemi il poisoning è l'avvelenamento il classico avvelenamento inondate la rete di immagini vostre in cui avete fatto un leggero morphing con qualche attore o attrice famosa a vostro gusto perché in questo caso voi somiglierete a quell'attore ma di quell'attore ci sono 6 miliardi di immagini in circolazione quindi il sistema dovendo scegliere tra ma è un perfetto sconosciuto o è George Clooney no sarà George Clooney è molto più probabile ok quindi così si avvelena il sistema di riconoscimento massivo una cosa del genere funziona tra l'altro chi è che l'ha inventato una persona che forse qualcuno conosce si chiama Swini la Tania Swini è la stessa che ha capito e ha pubblicato un articolo un po' di anni fa dimostrando che le sole informazioni che uno disponibili da fonti pubbliche permettono di deanonimizzare una quantità impressionante di persone ha scritto il lavoro anche su questa capacità del poisoning di diciamo così di ingannare il sistema l'anti-recognition ovviamente una volta che uno sa come funziona il sistema si trucca in modo da ingannare deliberatamente il sistema si fa crescere la barba prende gli occhiali e un sacco di altre cose questi sono gli articoli perché vi dicevo interessante OpenFace perché è software che si può scaricare tranquillamente provare anche le reti già addestrate quindi non pagate le 700 ore di addestramento ma avete già il modello addestrato OpenCV per il detection per ritagliare la faccia all'interno delle immagini questi sono i due articoli ne cito soltanto due quelli di Facebook e quelli di DeepFace che è DeepFace è Facebook e Facenet è quello di Google dove descrivono bene cosa hanno fatto ma si guardano ovviamente bene dal pubblicare la rete addestrata perché la rete addestrata è l'oggetto che costa cioè è lei che costa 700 euro di CPU più 300 milioni di immagini più un algoritmo di addestramento estremamente trucchettoso ok mentre questi da qui potete scaricare dei modelli pre addestrati che hanno le prestazioni del 95% che sono quelle che vi ho detto ultima domanda secondo voi il 99 e 64% a cosa corrisponde come risoluzione mi spiego meglio il DNA vi identifica su una parte su 4 miliardi ok il 99 64 detto così sembra un bel numero è 1 su 270 da un punto di vista forense io non sarei così tranquillo utilizzando un errore di 1 su 270 e comunque penso che pochi tribunali accetterebbero come prova legale un riconoscimento a una parte su 270 mentre accettano tranquillamente l'1 per miliardo del DNA ok vi ringrazio sono a disposizione per le vostre domande grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti